Sì, è un bel progetto di cui siamo veramente soddisfatti e di cui ringraziamo sia il Comune di Vallefoglia che la ditta Gemos. È un'esperienza importante per i bambini ed è un servizio che va a completare l'offerta formativa della scuola perché il servizio Mensa rientra a pieno titolo nell'offerta formativa della scuola. Non si tratta solamente di far mangiare i bambini ma di educarli a rapporto con il cibo. Quindi la ditta Gemos fa sempre un lavoro eccellente però questo inserimento del pesce fresco aiuta senza altro i bambini a incontrare un alimento che difficilmente rientra nei loro gusti e nelle loro scelte. Quindi veramente siamo pienamente soddisfatti e non possiamo che ringraziare di questo. La Mensa che sappiamo essere sempre un momento di convivialità con i bambini soprattutto in un anno così particolare. Sì, la Mensa è un aspetto fondamentale dell'offerta formativa della scuola. Non è solamente, dicevo prima, il mangiare ma è lo stare insieme e l'educarsi e l'alimentazione. In quest'anno così particolare la Mensa ovviamente ha subito degli adattamenti. Lavoriamo su tutti i plessi con il sistema del doppio turno per garantire il distanziamento sociale e mi permetto di ringraziare sia i docenti che il personale ATA per lo sforzo che stanno facendo nell'organizzare al meglio questo servizio. Non abbiamo voluto affatto diminuire questa offerta perché va incontro sia all'esigenza delle famiglie e sia a quelle della scuola stessa. Il pesce azzurro nonostante sia reperibile a un basso prezzo e sia quindi definito un pesce povero, in realtà non è povero di proprietà nutrizionali. È molto ricco di grassi buoni, gli omega 3, e fondamentali per lo sviluppo oculare dei bambini, per i vasi sanguigni, il cuore e il cervello, per prevenire malattie come l'Alzheimer, l'aterosclerosi o l'infarto. Il pesce azzurro è una fonte eccellente di proteine nobili ad elevato valore biologico e è costituito da amminoacidi essenziali. Essenziali significa che il nostro organismo non riesce a sintetizzarli autonomamente, ma li deve introdurre con l'alimentazione, quindi anche con il pesce azzurro. Il pesce azzurro è molto ricco di ferro, calcio, fosforo per le ossa e iodio. Lo iodio è un minerale prevalentemente carente per tutti, ma è fondamentale per lo sviluppo della tiroide. Il pesce azzurro infine è molto ricco di vitamina D, importante per l'apparato scheletrico, e vitamine del gruppo B. E quante volte è consigliato nutrirsi di pesce azzurro nell'arco della settimana? È consigliato consumare il pesce azzurro due volte a settimana con porzioni da 100-150 grammi, soprattutto per l'apporto di grassi buoni, questi omega 3. È infatti preferibile il consumo di pesce azzurro piuttosto che integratori, che sono più costosi e meno efficaci. È bene consumare pesce azzurro di piccola dimensione, come acciuga, sardina, piuttosto che di grossa taglia, come il tonno o il pesce spada, poiché i pesci di grossa taglia potrebbero avere un accumulo di mercurio nei tessuti.